Forza! Vincerai! Vai, Mark! Il mio Pokémon è migliore del tuo! Ottimo lavoro! Tutte le carte sono mie! In realtà, quelle appartengono a Pikachu e Charmander! Pika! Pika! Siete delle sfigate! Una coppia di Pokémon sfigati! Sono così crudeli! Sfigate! Rotolate nella vostra Pokéball da sfigate! Corri! È stato orrendo! Ora ho bisogno di mangiare il mio stress! Non può andare avanti così! Dobbiamo sistemare le cose! Dobbiamo abbinare le nostre carte! Non posso! Puoi! Asciugati le lacrime! Daremo un bel colpo di spugna! Pika! Pika! Io ho 100 dollari! Questo è il nostro budget! Addio, leoncino! Basta così! 199! Siamo arrivate a 200! Evviva! Uno strumento per i brufoli! Proviamolo! Che l'infermiera Joy sia con me! Oh! Mi sta risucchiando! Per fortuna non ho i brufoli! Ma ho dei punti neri sul naso! Ma anche questo è risolvibile! Basta una striscia per il naso! Bisogna dargli solo un po' di tempo! Ho lasciato i segni! Sembra una coccinella! Ho bisogno dei cerotti per l'acne! Non quelli normali! Quelli per le pokeball! Oh sì! Fico! È ora! Il mio viso è immacolato! Anche il mio! È l'ora delle maschere per il viso! Pace e tranquillità! Voglio le carte Pokémon! Dovrebbero essere qui intorno! Ops! Chi è là? Sei tu, Charmander! Charmander è qui! Ragazzi, avete visto chi è entrato nella nostra stanza? Scrivete qui sotto chi era! È ora di togliere le maschere! Il mio viso è fresco! Hai un sopracciglio da Pokémon! E tu hai le occhiaie! Oh no! Un sopracciglio Pokémon! Oh, le occhiaie sono scure come il male! Una pinzetta? Cerotti per gli occhi? Scambio! Fantastico! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Fantastico! La mia pelle sotto gli occhi è luminosa! Ma il mio viso è cadente! La gravità è crudele! Mi serve un massaggio al viso! Ehi, Pikachu! Anche tu hai bisogno di un massaggio? Perché? No! Hai già un terzo mento! Mi sto solo evolvendo! Consegna le patatine e prendi il massaggiatore! Bye bye, doppio mento! Allora, sono carina adesso? Non ancora! Ceretta? Oh ragazzi! Le carte! Preparati! Non esiste! Oh sì! Senti, Pokemon! Ma perché è qui? Sei sicura di essere un topolino e non un orso? Perché c'è una carta? Ehi, che ti succede alle mani? È un disastro di secchezza! Aiutami! Calma, non preoccuparti! Ho delle maschere speciali per le mani! Ecco! Wow! E ora passiamo al trucco! Il siero idrata la pelle! Fondo tinta! Ritocco! Contorno! Correttore! Picanaso! Charmander incantevole! Sfuma bene il tutto! Fard! Idratazione delle labbra! Sistemiamo le sopracciglia! Un po' di nastro adesivo per uniformare gli occhi! Ombretto giallo! Ombretto arancione! Aggiungiamo un tocco di colore! Un po' di luce! Eyeliner! E definiamo le ciglia! Rossetto! Scelgo te! Wow! Ecco i nostri rossetti! Un rossetto Pikachu e un rossetto Charmander! Siamo pronti a conquistare il mondo dei Pokémon! Sono pronta a partire! Aspetta! Con questo vestito non vai da nessuna parte! Non esiste! Ordineremo un nuovo guardaroba! Pokéball! Spostatevi! Gioco io! Allora che cos'hai lì? Giochetti dry! C'è il Goathe e Pokémon! C'è il Goathe e Pokémon! Guardate chi c'è nella mia Pokémon! E quindi quello è il tuo Pokémon forte, Mark? Lotta a colpi di rossetto! Smettetela di ridacchiare! La mia Pokéball! E un sacchetto di patatine! Non vedo l'ora di cambiarmi! Sceglierò qualcosa per te! No! Oh! Potrebbe essere questo! Questa gonna! Compro un top! Eccellente! Ma manca ancora qualcosa! Una coda e delle orecchie! Sono in debito con te, Charmander! Ma ora tocca a te! Ok! Io sto per... Dai! Prova tutto! Queste sono tutte le mie carte! Allora chi è l'allenatore di Pokémon più fico dell'edificio? Santi Pokémon! Chi sono quelle? Halo! Ci riconoscete? Pika! Pika! Wow! Sono Pikachu e Charmander! Sono da paura! E le mie carte? Guardate un po'! Oh! Balbasaure e Miao! Perché non mi prestate attenzione? Scommetto che vorresti le nostre carte! Oh! Wow! Ragazzi! Guardate! Ho delle carte nuove! Guardate qui! Dobbiamo andarcene! Sarete mie! Oh no! Pokéball! Chi è? Scendiamo! Siamo arrivate! Ma da dove vengono? Alieni! Non preoccuparti! È tutto a posto! Vado a fare la spesa! Questi andranno bene! È ora di tornare a casa! Gli snack non sono gratis! Il portale si è chiuso! Prossimo cliente! Stiamo arrivando! Ci sono? Scusa per il caos! Saremo... Generose! Cosa devo fare con questi soldi pazzi? Servono soldi veri! Non mi ingannate! Lasciate il negozio! Psicopatico! Ci serve un nuovo piano! Patatine! Questo si chiama taccheggio! Ma chi è? Perché hai portato fuori le patatine di nascosto? Non fanno altro che litigare! Cerchiamo un portale verso casa! Oh no! Non funziona! Siamo bloccate qui per sempre! Seguitemi! Una stanza in affitto? Che fortuna! Salve! Ci serve questa stanza! Potete permettervela? Certo! Passa! Stella! Ecco i soldi! Entrate ragazze! Cosa? Fermi! Aprite quella porta! Non possiamo trattenerla a lungo! Inventati qualcosa! Dattimi un secondo! Ritaglia delle stelle con la gomma piuma! Aggiungi delle stelle di gomma piuma glitterate! Datti una mossa! Attacca le stelle su un braccialetto con il biadesivo! Fatto! Wow! Aprite! Mi avete fatta arrabbiare! Via da qui! Wow! La stanza è in cambio del braccialetto! È mio! Fuori! Dalle il braccialetto! Sì? Dammi il braccialetto! È mio! Ti tengo d'occhio! Stella è così sensibile! Voglio andare a casa! Portale! Portale! Non si apre! Non essere triste! Guarda cosa ho trovato! Un diadema potrebbe aiutarci! Ma certo! Al portale manca un diadema! E lo faremo noi! Con un po' di materiale a portata di mano e un po' di magia stellare! Rivesti gli spiedini di legno con la vernice acrilica! Attacca le stelle di gomma a piuma! Fissa gli spiedini sulla stella grande con la colla a caldo! Attacca una base rotonda e una forcina al centro! Bellissimo diadema! Incrociamo le dita e funzionerà! Forza! Forza! È una pavera pop-it! Il diadema non ha aiutato! Il mio diadema! È inutile! Ok! Io ho un pop-it! Non più! Alcune cose non cambieranno mai! Vediamo cos'altro nasconde questa stanza! Roba pacchiana! Ma no! Borse noiose! Non emozionanti! Wow! Che cos'è? Tessuto bellissimo! Farò qualcosa di fantastico! Ritagliamo! Realizza questi pezzi di stoffa! Ritaglia una mezzaluna dal tessuto blu! Cuci! Taglia un cerchio dal tessuto per imbottitura e cucilo al tessuto principale! Aggiungi i lati della borsa! Unisci i pezzi tra loro! Ma che sta facendo? Velcro! Aggiungiamo una chiusura! Altri strass! Decora con un filo di strass e perline! Attacca la maniglia! Un pizzico di magia lunare! Badabing! La borsa dei sogni è pronta! Ma dove vai? Dal dottore magico! Potrà prendersi cura di stella! Andiamo! Fermi! Mi stavo dimenticando del portachiavi! What? Ora possiamo andare! Aspettate! Il mondo deve sapere delle mie grandi conquiste! Vi stavo aspettando! La palla prevedeva la vostra presenza! Ehi! Abbiamo portato stella! Le serve aiuto! La mia magia è sparita! Non posso creare un portale! Lo sapevo! Cercherò di darti una mano! Cosa c'è là? Dove? Eccola! La polvere magica che ti aiuterà! Finalmente! Prima i soldi! Vuoli dei soldi? Ok! Siamo state fortunate questa volta! Preparati! La magia sta per funzionare! Adesso! Oh no! Basta! Polvere è sbagliata! Ancora una volta! Ops! Ma che cosa hai fatto? Prendi questo! Ma io non volevo... Stella sta bene! Andiamocene da qui! Cos'è questo? Sono un sacco di fialette! Wow! Iniziamo l'esperimento! Per creare un portale dobbiamo trovare i flaconi adatti! No, 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 no! Niente esperimenti senza occhiali! Guanti! Occhiali! Non li indosserò! Li costruirò da sola gli occhiali di protezione! Taglia la parte superiore della montatura! Ora dipingo! Rivesti con la vernice acrilica! Aggiungo le stelle scintillanti! Attacca dei fili di stress! Prendo questo! Ritaglia delle mezze lune dalla gomma piuma e attaccale ai nastri! Decora con i cristalli! Gli occhiali sono pronti! Questi sono più che semplici occhiali! C'è un effetto luna! Posso provarli, per favore? Assolutamente sì! Favolosi! Fantastico! Facciamo l'esperimento! Il concorso per reginette del college sta per iniziare! Dovreste partecipare! Sono pronta! Anch'io! E io! Sarò pronta tra un minuto! Cuci due sfumature di frangia lungo il bordo di una spallina! Attacca un filo di paillette lungo il bordo esterno! Taglia dei pezzi di sole dal feltro e riempi il centro con grandi paillette! E un po' d'oro! Attacca un filo di paillette lungo il bordo! Incornicia i raggi con le paillette! Incolla la spallina! Riempi gli spazi vuoti con un nastro di paillette! Ragazze! Sono pronta per il concorso! Adorabile! Svegliati! Dobbiamo andare! Grazie! Grazie! Fate largo! Le nuove reginette del college sono qui! Grazie per la coppa! Anche noi vi vogliamo bene! Date il benvenuto alle nostre regine del college! Sole, stella e luna! È finita! Questo è il giorno più brutto della mia vita! Abbiamo vinto! Oh, è così sconvolta! Non voglio i fiori! Niente, mi renderà felice! Perché non sono più la reginetta del college! Cosa facciamo? Lo so! Ragazzi, date più like possibile ad Ashley! Per renderla di nuovo popolare! Quanto manca? Hai dimenticato il mignolo? Va bene, ora? Prova a creare un portale! Un momento! Andiamo! No! Non ancora! Il massaggio non è servito! Siamo a corto di idee! E ora che facciamo? Stella, qual è il problema? Mi sono rotta un'unghia! Oh no! Ti aiuto io! Conosco un modo! Trovati! Strumenti per le unghie! Unghie nuove! Dobbiamo solo far asciugare lo smalto! È facile! Fatto! Le mie unghie sono fantastiche! Sento di nuovo il potere! Non torneremo più a casa! Rimarremo qui per sempre! Ma che cos'è? Ma certo! Dobbiamo unire i nostri poteri! Creiamo una cintura magica che ci collegherà tutte e tre! Ritaglia dei raggi di gomma piuma! Ritaglia due cerchi di feltro! Forma un sole! Rivesti il centro con del nastro di paillette! Decora con le punte! Fissa le catene ai lati! Fatto! Luna! Ecco! Stella! Fatto! Allaccia la catena al braccialetto! Oh, giusto! Fatto! Si torna a casa! Ma... Dove siamo? Sono così confusa! C'è una specie di progetto? Mi piace! Stella! Che ne pensi? Un autografo! È facile! Ah, sei senza speranza! È l'ora di costruire! Stella va di là e sole di là! Iniziamo a dipingere! Ottima idea! Mi servirebbero delle unghie nuove! Ma prima dobbiamo pulire tutto! Ci sono così tante travi! Stella! Non è il momento per le unghie! Userò la magia delle stelle per questo? È così giusto! Ok! È arrivato il momento di fare il lavoro! A quanto pare segare è molto divertente! Da dove inizio? Sono così maldestra! Assembliamo la struttura! Wow! È stato forte! Ed è solo l'inizio! Sto andando alla grande! Stella! Non è così che si usa l'avvitatore? Così è molto più veloce e facile! Tieni qua! Così fissiamo questa trave! Struttura finita! Wow! Ciao a tutti! Guardate questa fantastica struttura che abbiamo realizzato! Il colore del cielo di notte è il mio preferito! No! Il piano di sopra è mio! Calma! Risolvete questo litigio da adulte! Stella prende il piano di sopra! Luna il piano di sotto! Ma non è giusto! Ma non è giusto! Comunque sia! Il mio letto sarà del colore più bello! Più è giallo, meglio è! E io finirò le mie unghie! Ma come fa a dipingere con quel pennello minuscolo? Gliene porterò uno decente! Luna è andata via! Ecco un vero pennello! Non posso ancora dipingere! Sole! Vieni qui! Fai qualcosa per le sue unghie! Accendo le luci UV! Fatto! Comincia a dipingere! Il materasso è così pesante! Userò la magia! Grazie ragazzi! Siete dei supereroi! Mettete il materasso lassù! Il nostro lavoro è finito! Ma certo! Un autografo! Sono generosa! Cosa? Chi paga il lavoro? Brutti maleducati! Ok! Lo farò io! Siamo ricchi! Calma! Il letto è fatto! Questo colore è così elegante! Manca qualcosa! Lo so! Un po' di magia e avrò delle tende fantastiche! Ci sono la luna e le stelle! Il martello è il mio strumento preferito! Anch'io voglio una trasformazione magica! Per favore! Per favore! Bello! Pronto? Lavoratori edili! Ho bisogno di aiuto! Ancora loro? Appendetelo laggiù! Sta calpestando il mio letto! Fantastico! Grazie per il lavoro! È ora di pagare! Siete molto gentili! E i soldi? Questo no! Aspetta! Più brillantezza! Bello! Stai cucendo un cuscino? Ne voglio uno anch'io! Ho quasi finito! Non funziona! Mi sono infilzata tutte le dita! Fatto! Sole! Aiutami! Ok! Ecco un cuscino per te! È meraviglioso! Wow! Cos'è? Un'ombra strana! Miam! Miam! Presa! Paura! Questo è il mio nuovo cuscino! Che scherzo di cattivo gusto! Non farlo mai più! Come faccio a scendere? Ho paura delle altezze! Non è così alto! Ok! Una stella cadente! Esprimi un desiderio! Sveglia! Stai bene? Ok! Ti farò una scala! Grazie! Batti il cinque! È una causa persa! Mio dolce abitatore! Ti meriti un posto speciale! Per esempio? Proprio qui! Portalo via! Ma che hai fatto? Come osi trattare i miei attrezzi in questo modo? L'ho trovato! Un piano decente per i miei attrezzi! Lo metterò dove tutti possono vederlo! Ecco fatto! Ehi! Cos'è questo? Basta con i pasticci! Voglio anch'io quegli scaffali! Per favore! No! Prima di tutto guardali! Hai vinto! Li avviterò! Proprio qui? Fatto! Sei contenta ora? Li adoro! Ora è tutto al suo posto! Ah! Dimenticavo il cuscino! Ots! È l'ora della ninna! Buongiorno! Che bello! Wow! Soffiamo un po' di pepe nero su Stella! No! Facciamole il sollettico con la piuma! Ok! Ciao Stella! Star notisci di nuovo per favore! No! Wow! Incredibile! Non me lo aspettavo nemmeno io! Devo rifarmi le ciglia! Oh! Ho bisogno di uno specchio al più presto! Vediamo! Da dove viene questa luce? Oh! I fotografi e le telecamere sono qui! Sì! Oh! Non riesco a dormire! Sole! Fammi attaccare il tuo specchio! Qui andrà bene! Sono in debito con te! Niente macchine fotografiche! Non riesco a dormire! Serve una luce notturna! Anch'io voglio una luce! E la farò a maglia! Cosa sta facendo sole? Anch'io amo lavorare a maglia! Ops! Fatto! Cos'è questo? L'ho fatto per te! Magia del sole! Accendi la luce! Ha funzionato! La lampada lunare è l'unica cosa che può brillare di notte! E il sole deve brillare! Luna! Sole! Luna! Sole! Gio si avvicina! Wow! È qui!